In provincia di Terra un'evica è nevicato abbondantemente tutta la notte, sopra 700 metri. In questo momento i maggiori disagi e le avviabilità si stanno registrando nel comune di Crognaleto, situazione su cui il sindaco Giuseppe D'Alonso ha evidenziato problemi, questo a causa, a so dire, della mancata pulizia delle strade provinciali. A Castelli, per la giornata odierna, il sindaco Rinaldo Sega ha disposto alla sospensione dell'attività didattica, mentre a Cortino al momento non si registrano particolari criticità. A Valle Castellana, nelle frazioni di alta quota, si sono già raggiunti 30 centimetri di neve, una situazione su cui l'ente provinciale ha annunciato di essere al lavoro per far fronte a questa prima emergenza, soprattutto visto che la situazione potrebbe aggravarsi se il maltempo, come previsto nelle prossime ore, peggiorerà. Per i disagi attuali stiamo provvedendo come per gli scorsi anni, quindi i nostri capi nucleo hanno sollecitato le elite che sono prontamente intervenute, oltre che i nostri mezzi, diciamo, i mezzi e gli operari della provincia, siamo riusciti in tempi celeri, ma chiedendo anche scuse agli amministratori per i disagi che ovviamente si vanno a creare. Per migliorarci e per migliorare il servizio stiamo adottando, proprio in queste ore adotteremo e manderemo in gara il piano neve, 415 mila euro, 43 comprensori, quindi la provincia completamente divisa in comprensori, divisa in tre fasce, montane, collinari e costiere, per sapere in maniera esatta quali e quanti mezzi e chi dovrà muoversi in caso di neve. Questo ovviamente diventerà operativo nei primi giorni, speriamo, del 2019. Nel frattempo però i cittadini siano tranquilli e i sindaci anche perché la provincia non li abbandonerà e sarà comunque presente per tutte le vicissitudini.